E siccome il mondo è bello perché è vario, al mio fianco è Mistres Cristaldea, chi è? Beh già Mistres mi dice qualcosa, chi è Cristaldea? Cristaldea è una Mistres che predilige, devo dire cosa predilige? La femminizzazione, il pegging, strap on e poi al BDSM ho aggiunto anche il massaggio tantra di cui mi sono qualificata. Cos'è il massaggio tantra? Il massaggio tantra è solo tocchi soft a tutto il corpo e poi faccio un'altra cosa che non so se posso dirla. Non la puoi dire. La posso dirlo? Non la puoi dire. Non la posso dire. L'altra cosa non si può dire. Non si può dire. Dove ti troviamo? A me mi trovate su www.mistrescristaldea.it, là ci sono tutti i miei contatti. Poi su Twitter Cristaldea1 e su Instagram Cristaldea Divina. E in più produco film amatoriali su ciò che io faccio perché amo proprio fare quello che faccio, ci metto tanto di coinvolgimento, ci metto tutta me stessa. Bene, allora noi ti cercheremo, ti troveremo. Non dovete cercare, entrerò nella tua mente per dominare i tuoi pensieri, a te che mi stai guardando e che mi stai ascoltando. Mi raccomando, vieni da me perché poi a te ci penso io. Da Mistres Cristaldea La Divina. Paura! Buona estate!